Oggi, oggi io festeggio il mio amore per la vita, il mio amore, festeggio, pranzo, qua i dipendenti pagano un euro e dieci, solo a mangiare i dipendenti. Io oggi ho avuto una cosa eccezionale da un mio amico e non sono contenti del cibo così buoni, gli spaghetti alla marinaia, da bere, succo di frutta, carciofili, patate alla carne. Io ho avuto un permesso speciale a un ottimo prezzo e sono entrato a mangiare in questo luogo. Io festeggio la giornata di San Valentino, il 14 febbraio, poi riparto, mangio ottimamente bene a un prezzo eccezionale, grazie al mio amico che mi ha offerto in parte con un buono sconto il pranzo, Aldo.